Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. Traffico al momento regolare sulla rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiato e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. In Fippillì, fino all'8 dicembre tratto e chiuso per lavori al km 0 della SP224 di Marina di Pisa nei prezzi dello Svingolo di via Quaglierina-Livorno per frana al km 79 865 direzione mare. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Sulla strada regionale 2 Cassia, senso unico alternato e restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del km 268 a Barberino-Tavernelle. Morso in Toscana-Infe è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!